Arrivano notizie positive per i lavoratori del centro di Pian del Lago che nelle settimane precedenti avevano protestato insieme ai sindacati a causa dei mancati pagamenti di alcune mensilità, pagamenti che in parte sarebbero già stati saldati adesso, così come racconta Gianfranco Di Maria della Cisle Funzione Pubblica. Fortunatamente a seguito delle azioni sindacali che abbiamo fatto ma del grande impegno della prefettura e diciamo la verità di sua eccellenza il prefetto in prima persona con il suo staff sono già stati pagati i primi due mesi arretrati ai colleghi in modo diretto, questa è la prima volta che succede almeno da quando ne ho cognizione io e adesso stanno per pagare gli altri tre mesi quindi nella buona sostanza i cinque mesi arretrati sono tutti saldati o stanno per essere saldati, questione proprio di iter burocratico. Noi siamo molto molto soddisfatti da questo punto di vista, il problema in realtà non è risolto completamente, al momento è risolto il disagio, i problemi dei lavoratori, però siccome siamo in un momento di cambio appalto è chiaro che poi tutti saremo molto più attenti a che la ditta non accumuli tutte queste mensilità.